Buongiorno, sono Bergantino e Lorenzo della OML SRL, siamo specialisti di attenziatura di bloccaggio per il macchino pezzi. In questa edizione della TUMU presentiamo un nuovo prodotto che si chiama Sintegri, che è stato, diciamo, giusto, per il quale abbiamo anche avuto dei premi a quanto riguarda l'innovazione presso altre fiere all'estero.